voglio una basilicata di ritorni di presente per il futuro di donne indipendenti voglio una basilicata attenta alle persone fatta di idee di progetti di viaggi da vivere di sentieri da esplorare con fiducia e sensibilità di audacia e di luce di memoria e prospettive di bellezza e di spazio per quelli che verrà una basilicata concreta come la terra solida come le montagne sicura come la famiglia vicina come gli amici bcc basilicata il nostro modo di fare banca